Napoli violenta, sedicenne accoltellato da baby gang, circondato dal branco nei pressi di Corso Garibaldi e poi ferito con un coltello. La vittima non è grave all'oretto mare, si indaga, intanto presi due rapinatori di 18 e 16 anni hanno inseguito e minacciato con un coltello due giovani lungo via Toledo per impossessarsi di un casco. Sanità, aggressioni e nuovo caos barelle, ancora violenza negli ospedali, 13 dall'inizio dell'anno con un ultimo caso dal ruggi di Salerno. A 8 channel il presidente nazionale guardie giurati al viti chiede più vigilantes nei pronto soccorso mentre riesplode il caso barelle al cardarelli. Caso di influenza suina, allarme del Salernitano, in isolamento nell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, una ragazza di Olbia che era in visita ad alcuni amici. Immediatamente scattata la profilassi, ricoverato in via precauzionale anche il fidanzato originario di Avellino. Regionali Fratoianni, in campo senza De Luca, il leader di Leu dice sì all'accordo elettorale con PD e Movimento 5 Stelle ma frena sulla ricandidatura del governatore uscente. Intanto è sfumata l'intesa Dem Grillini per le suppletive di Napoli. Novolegno e dramma, occupato il comune, il gruppo Fantoni non riapre lo stabilimento di Arcella in Irpinia, esplode la rabbia degli operai che hanno occupato la sala consigliare del comune di Montefredane. Macchinari trasferiti a Udine, pronti ad azioni clamorose di protesta. Ecco perché il Sannio non è più Isola Felice, decide di arresti, centinaia di indagati, tre operazioni con al centro droga, estorsioni e truffe sulle indennità. Tutto questo è accaduto a Benevento in soli quattro giorni, ma il PM antimafia del Gaudio assicura istituzioni attente contro il malaffare. E questi erano i titoli di oggi, ben ritrovati con l'informazione regionale di 8 Channel News, canale 696. In apertura scene di violenza a Napoli, protagonisti ancora una volta minorenni, un ragazzo di 16 anni è stato ricoverato al Loreto Mare per ferite d'arma da taglio, mentre i carabinieri hanno arrestato due ragazzini che avevano rapinato due coetanei. Vediamo il servizio. Napoli sempre più violenta, questa notte all'ospedale Loreto Mare è arrivato un giovane di 16 anni con ferite d'arma da taglio. Da quanto appreso, il ragazzo sarebbe stato avvicinato da quattro coetanei in corso Garibaldi all'altezza di via Ponte di Casanova. I quattro hanno cominciato a insultarlo e poi uno di loro lo ha ferito alla gamba sinistra con un coltello. Il sedicenne non è in pericolo di vita e sull'episodio indagano i carabinieri che stanno raccogliendo testimonianze, esaminando i filmati di videosorveglianza. Ma proprio grazie alla videosorveglianza sono stati incastrati altri due minorenni accusati di rapina. I carabinieri del nucleo operativo della Compagnia Napoli Centro, all'esito di un'indagine svolta dalla Procura del Tribunale dei Minori di Napoli, hanno dato esecuzione alle misure cautelare degli arresti domiciliari e del collocamento in comunità nei confronti di due giovani, rispettivamente di 18 e 16 anni. I due ragazzini, messi alle strette, alla fine hanno confessato. I fatti si sono svolti il 18 ottobre scorso in Piazza Dante. Due ragazzi, dopo aver trascorso la serata insieme a amici, si accingevano a rientrare a casa, quando sono stati avvicinati da altri due che in sella allo scooter, minacciandoli con un coltello, gli hanno intimato di consegnare il casco. Al tentativo di fuga dei ragazzi è nato un inseguimento tra scooter lungo via Toledo, che è terminato in Piazza Trieste Trento, dove i rapinatori sono riusciti a raggiungere le vittime e a puntargli il coltello al fianco, costringendole così a consegnare il casco. Da qui poi la denuncia e le indagini. Non si ferma l'escalation di violenza negli ospedali della Campania. 13 aggressioni dall'inizio dell'anno, con un ultimo caso al Ruggi di Salerno, dove è stato aggredito un infermiere. E nell'approfondimento, punto di vista del direttore Pierluigi Melillo, il presidente nazionale guardie giurate Alviti, chiede più vigilantes su ambulanze e nei pronto soccorso. Intanto riesplode il caso Barelle al Cardarelli. Sentiamo. Il Cardarelli scoppia di pazienti, complice il picco dell'influenza stagionale. Le barelle in questa situazione sono una risposta inevitabile. In medicina d'urgenza, ieri si contavano 46 ammalati e barelle nei corridoi. La neurochirurgia è allo stremo, la neurologia non è da meno per gli ictus. I reparti sono al collasso, c'è la fuga di medici e i reparti sono allo stremo, sottolinea il consigliere dei Verdi, Francesco Borrelli, che annuncia una prossima interrogazione in consiglio. E come se non bastasse, non si fermano le aggressioni a medici e infermieri. 13 dall'inizio dell'anno. Ieri, nel reparto psichiatrico dell'ospedale del mare, due infermieri e due medici sono stati presi a calcio e pugni dai parenti di un malato. Poche ore dopo, stesse scene a Ruggi di Salerno. Alla notizia della morte di un parente, alcune persone hanno picchiato medici e infermieri. Una situazione di vera emergenza. Come precisa il presidente nazionale, guardie e giurate particolari, Giuseppe Alviti, che nell'approfondimento punto di vista col direttore Melillo, chiede più vigilantes su ambulanze e nei pronto soccorso. Anche queste nuove funzionalità di queste telecamere non bastano al nostro modestissimo avviso, perché sono un atto probatorio subito dopo un'aggressione, per indicare bene quali siano state le caratteristiche dell'aggressione e individuare il presunto colpivole. La prevenzione è ben altra cosa. La prevenzione è intervenire in modo costante, con una presenza fisica e massiccia, di personale idoneo proprio per far sì che le persone interessate non vengano a contatto con il medico o l'infermere di turno per aggredirlo. E' Marco Valentini, il nuovo prefetto di Napoli, nato a Roma il 24 settembre 1956 e direttore dell'Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari del Viminale. Ha già ricoperto l'incarico di prefetto a Lecco e a Grosseto. Caso di influenza suina nel Salernitano, ricoverata all'ospedale Umberto I di Nocera una ragazza di Olbia, che era in visita ad alcuni amici. immediatamente scattata la profilassi, isolata nel reparto di malattie infettive, la giovane è in via precauzionale, anche il fidanzato originario di Avellino. Sentiamo Sara Botte. Caso di influenza suina nel Salernitano, colpita una ragazza di Olbia in visita ad alcuni amici. La giovane è stata ricoverata all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore e arrivata in pronto soccorso con una febbre molto alta e problemi alle vie respiratorie. Dopo una serie di accertamenti sanitari, hanno diagnosticato il ceppo influenzale. Il tampone linguale è risultato infatti positivo all'H1N1. È così partita la denuncia obbligatoria per la malattia. In seguito alla diagnosi in via precauzionale, è stato ricoverato anche il fidanzato della ragazza originario di Avellino. Entrambi si trovano ora isolati nel reparto di malattie infettive dell'Umberto I. intanto arrivano le rassicurazioni proprio dell'ospedale. Si tratta di un caso isolato, si evitino allarmismi. L'influenza suina, che in un primo momento può manifestare gli stessi sintomi di una banale influenza, febbre, tosse, dolori articolari, può avere in alcuni casi conseguenze gravi e anche letali in persone che abbiano già un sistema immunitario compromesso. Era completamente abusivo. Oggi è scattato il sequestro del mega centro commerciale all'ingrosso di via Emanuele Gianturco a Napoli, gestito dai cinesi. Gli inquirenti ipotizzano i reati di edificazione e lottizzazione abusiva. Secondo quanto emerso dalle indagini, ci sarebbe stato un illecito cambio di destinazione d'uso da aria urbanisticamente destinata ad attrezzature pubbliche a centro commerciale. Nel centro commerciale sono state ospitate 45 società del settore dell'abbigliamento e dell'elettronica, anche all'ingrosso, attività dedicate alla ristorazione e ai servizi di pulizia e di sicurezza. L'edificio dovrà essere demolito entro 40 giorni. Ora la politica. Niente accordo. Movimento 5 Stelle e PD non trovano la convergenza sulle elezioni suppletive a Napoli. Resta aperto ancora uno spiraio per le regionali, ma senza De Luca. Nicola Fratoianni di Leu, non ha dubbi. Il governatore è divisivo. Con lui il centro-sinistra perde. Rossella Strianese. La resa è arrivata solo ieri, al termine delle votazioni online sulla piattaforma Rousseau. Il Movimento 5 Stelle ha scelto il suo candidato per le supplettive a Napoli. Le elezioni per rimpiazzare il seggio al Senato nel collegio Campania 7, lasciato vacante dalla morte di Franco Ortolani. È Luigi Napolitano, già candidato alle europee. Con lui si chiude ogni discorso di alleanza con il Partito Democratico. Così il Movimento si condanna all'isolamento politico, commenta deluso Marco Sarracino. Il segretario del PD di Napoli si era impegnato molto per un'intesa. Ma per il Senato anche Dema correrà da solo. Il sindaco dei magistri si ha indicato il nome dell'assessore Anna Maria Palmieri. Diverso il discorso per le elezioni regionali. L'EU, alleato di governo con PD e 5 Stelle, spinge per il cosiddetto campo largo progressista. E chiude definitivamente le porte al governatore uscente De Luca. Nicola Fratoianni, parlamentare di L'EU e coordinatore di Sinistra Italiana, ospiti ad Avellino al carcere borbonico, per la presentazione del libro Michele D'Ambrosio, Politica e Passione, non ha alcun dubbio. Noi siamo dalla parte di chi pensa che in Campania, per evitare che la regione venga consegnata alla destra, una destra pessima, come quella che oggi occupa buona parte della scena politica italiana, sia necessario provare a costruire un'alleanza larga che coinvolga anche il Movimento 5 Stelle e che lo faccia a partire da un elemento di rinnovamento anche negli uomini, nelle figure di spicco, a cominciare dalla candidatura alla presidenza della regione. Soprattutto mi sembra di poter dire che al di là di quel che pensiamo noi, la sua figura sia una figura che impedisce la costruzione di un'alleanza larga, cioè di un'alleanza che sia in grado di vincere le elezioni. Quindi io penso che se si vuole vincere le elezioni in Campania sia necessario che tutti siano consapevoli di questo, compreso il Presidente De Luca. Ora l'avvertenza a Novo Legno, il gruppo Fantoni non riapre lo stabilimento di Arcella in Irpinia ed esplode la rabbia degli operai che ieri sera hanno occupato la sala consigliare del comune di Montefridane, macchinari trasferiti a Udine. Siamo pronti ad azioni clamorose di protesta. Sentiamo. Un gesto simbolico forte perché arrivi il messaggio all'azienda e alle istituzioni di non abbassare l'attenzione sulla vertenza a Novo Legno. Gli operai della fabbrica di Arcella ieri sera hanno occupato l'aula consigliare del comune di Montefridane. Materassini e coperte hanno trascorso lì la notte e non intendono arretrare nella loro protesta. Fantoni ha annunciato di voler investire solo al nord e qui al sud dismette le sue aziende, raccontano esasperati gli operai. A maggio scadrà la cassa integrazione straordinaria e ci ritroveremo 117 di noi in mezzo a una strada. Ha smontato queste macchine e sta facendo lo stesso prodotto al nord, mentendo ai tavoli istituzionali, al ministero, alla regione, dicendo che non c'è futuro, mentre giù al food, mentre al nord, fa investimenti con i nostri prodotti e la nostra esperienza. Ci siamo fatti in quattro per lavorare per fare il riciclato al 100%, da legno vergine che facevamo. Adesso questa esperienza se l'ha portata su, insomma, la investe per fare il riciclato, ce l'ha tolta a noi per portarselo su. Se c'è qualche imprenditore che vorrebbe fare la stessa cosa oppure riconvertire, si faccia avanti, insomma. È una lancia molto, ma molto forte, la lancia al dottor Mazza, che fa parte del comitato ambienti di Tarcella, mo' basta. Oggi lui potrebbe darci una grandissima mano, in quanto, fino a che la Novo Legno lavorava, dava fastidio. Oggi, che la Novo Legno è chiusa, è assente. E vorrei dire ai politici di Avellino, se questo capitava ai De Mita, ai Mancino, ai Gargano, sai che cosa dicevano? Se chiudiate Avellino, chiudiate anche a Dudile. Va bene? Decine di arresti, centinaia di indagati, tre operazioni con al centro droga, estorsioni e truffe sulle indennità. Tutto questo è accaduto a Benevento in soli quattro giorni. Il Sannio non è un'isola felice, ma per fortuna le istituzioni riescono a ripristinare la legalità, ha affermato il sostituto procuratore presso la Procura Nazionale Antimafia, Marco Del Gaudio. Sentiamo il servizio di Alessandro Fallarino. 23 persone arrestate, 8 sottoposte a obbligo di dimora o firma e oltre 115 indagati. Il tutto in una sola settimana, tre maxi operazioni che hanno rotto il torpore di una provincia, quella sannita, spesso e forse anche impropriamente definita Isola Felice. Drogue, estorsioni e maxi truffe ai danni dello Stato al centro di tre inchieste coordinate dalla DDA di Napoli e dalla Procura Sannite condotte da Carabinieri, Polizie e Guardia di Finanza. Benevento non è un'isola felice, lo ha rimarcato anche il sostituto procuratore presso la Procura Nazionale Antimafia, Marco Del Gaudio, ieri a Benevento per l'inaugurazione di un nuovo corso presso l'Università del Samnio sulla storia delle mafie. In realtà è una storia antica quella diciamo di Benevento che non è soltanto una provincia tranquilla e periferica rispetto alle realtà diciamo imprenditoriali mafiose o direttamente mafiose che ci sono sia per il confine con la zona vellinese per esempio penso alla Valle Caudina sia per il confine con il Casertano. Il malaffare c'è anche qui certo non è come in altre province ma c'è così anche il prefetto di Benevento Francesco Cappetta. Forse non nelle dimensioni in cui è presente in altre zone del territorio anche campano ma come le indagini in corso dimostrano ci sta anche qui insomma il contenuto delle indagini io non lo conosco perché è coperto dal segreto istruttorio però è evidente che se ci sono delle indagini problemi ci sono anche qui. Tutto pronto per il dragaggio del porto di Salerno ad 8 Channel 696 gli operatori dello scalo si dicono fiduciosi per il rilancio dell'economia del territorio ma allo stesso tempo chiedono di adeguare le strutture ricettive per l'arrivo dei giganti delle crociere e dei container Lanzilli. A Salerno è tutto pronto per il dragaggio del porto una notizia che fa ben sperare e che ha per prospettive nuove per la principale economia della città ma che allo stesso tempo necessita di adeguate iniziative per rendere lo scalo e le strutture ad esso connesse pronte a giocare la propria parte come spiega l'8 Channel 696 il presidente del Propeller Club Alfonso Mignone. È sicuramente un'ottima notizia che aspettavamo da tempo una notizia storica perché questa nave proveniente da Setubal questa nave battente bandiera belga di nome Braidel ci dà speranze per un futuro importante. Questi lavori quando saranno portati a termine consegneranno ovviamente alla comunità un'infrastruttura sicuramente più in linea con gli standard internazionali. Resta chiaramente il tema dell'accoglienza che è una delle successive spide che verrà una volta ultimato il lavoro del dragaggio. Sì, questo è un lavoro importantissimo che deve essere fatto in sinergia tra le istituzioni la società Salerno Stazione Marittima ha già ovviamente aumentato di molto il target dell'accoglienza però bisogna dare un'offerta turistica importante nel senso che dobbiamo cercare di trattenere questi passeggeri attraverso una programmazione di itinerari che possano conciliare ovviamente le toccate delle varie navi se riusciamo ovviamente a coniugare l'aumento della capacità del porto con l'aumento dell'offerta turistica potremmo dire finalmente di aver raggiunto quella dinamicità che ovviamente anche non solo gli operatori portuali ma anche gli operatori economici dell'interno del territorio si aspettano. Torniamo in Irpinia una fiaccolata per Antonio Dello Russo il 39enne morto un anno fa dopo l'inseguimento dei carabinieri i familiari chiedono la verità su quanto accadde quella notte due militari sono indagati ma ancora molte incognite sulle cause del decesso vediamo per sentirti ancora vicino illumina il nostro cammino è la frase che i familiari e gli amici di Antonio Dello Russo hanno scelto per accompagnare la fiaccolata che ieri sera ha attraversato la cittadina di Mercogliano in memoria del 39enne morto a seguito di un inseguimento con i carabinieri della compagnia di Baiano è accaduto esattamente un anno fa era la notte tra il 14 e il 15 gennaio l'auto di Antonio andò a schiantarsi contro un albero lungo la statale 7 bis tra i comuni di Mugnano e Avella il giovane non si era fermato al posto di blocco nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo sono stati iscritti due carabinieri di turno quella notte ma a distanza di un anno secondo i familiari di Antonio ci sono ancora molte domande senza risposta cioè è veramente come se fosse ieri il ricordo è sempre vivissimo il dolore è sempre vivissimo e la rabbia è ancora più grande per non essere ancora arrivati diciamo siamo in un punto di stallo completo cioè non si sa ancora niente che cosa chiedete esattamente? più che altro la verità la verità e la giustizia su quello che è accaduto cioè almeno una ricostruzione dei fatti che cos'è che non vi ha convinto fin dal primo momento? tutto soprattutto il lasso spazio temporale del del decesso a quando è stata avvisata la famiglia quindi quasi diciamo dieci ore i due militari avrebbero sparato otto volte contro l'auto di Antonio Dello Russo due proiettili colpirono il 39enne a un braccio e a una gamba si attende ora anche la consulenza del medico legale Picciocchi per chiarire se quei colpi di pistola furono determinanti nell'incidente Antonio aveva una fia di soli sei anni che ha preso parte alla fiaccolata il fratello è pronto ad andare fino in fondo per seguire questa verità e questa giustizia tutto 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 a Benevento studenti in piazza con un presidio per il disastro in Australia e per protestare contro la politica del governo e chiedere misure per contrastare il cambiamento climatico Maria Teresa De Lucia studenti in presidio questa mattina a Benevento il movimento Friday for Future torna a parlare dell'emergenza globale derivante dai cambiamenti climatici oggi siamo qui in piazza a Benevento ma in molte città d'Italia e non solo anche nel mondo proprio in solidarietà all'Australia i quali territori sono stati devastati da un incendio da circa tre mesi di fatti si tratta di dimensioni assurde di territorio circa 8 milioni di ettari di territorio ovvero pari ai 4 quinti delle foreste italiane non solo sono morte 25 persone mezzo miliardo di animali sono state distrutte 1300 case e sono 100 mila gli sfollati tutto questo succede davanti all'indifferenza del governo australiano infatti vediamo che il primo ministro Morris insieme al suo governo continuano a sostenere che non ci siano collegamenti tra i cambiamenti climatici e gli incendi che stanno distruggendo l'Australia il governo australiano proseguono gli studenti continua ad incentivare l'utilizzo di carbone ignorando gli accordi di Parigi il movimento Friday for Future tornerà presto in piazza per una mobilitazione globale in programma il prossimo 24 aprile ma lavora anche per la realtà di Benevento abbiamo in programma appunto di presentare la domanda al comune di appunto dichiarare emergenza climatica pertanto dichiarando emergenza climatica il comune dovrebbe prendere determinate norme determinate misure affinché che le emissioni di CO2 siano ridotte notevolmente e che la città comunque diventi plastic free e caccia agli incivili della raccolta differenziata Salerno ennesimo blitz nel centro storico da parte del nucleo ambientale della polizia municipale fioccano le multe il sindaco Napoli puniremo i cafoni sentiamo Sara Botte linea dura del comune di Salerno contro gli incivili della raccolta differenziata continuo in città l'abbandono indiscriminato di rifiuti soprattutto in alcune aree del centro storico ancora un blitz del nucleo ambientale della polizia municipale la squadra della polizia municipale guidata dal capitano Novella che si occupa di queste operazioni sta martellando di nuovo nel centro storico per distogliere in via definitiva le persone da comportamenti indecenti e incivili abbiamo fatto 21 bonifiche con 8 verbali di 500 euro cada uno non solo agli esercizi commerciali che indulgono talvolta nell'abbandono irregolare dei rifiuti ma anche a privati cittadini e abitanti del centro storico stesso il sindaco promette non si fermeranno le azioni contro chi inquina restituiremo dignità ai quartieri c'è bisogno credo di un'ulteriore campagna di sensibilizzazione dei cittadini salernitani che hanno un'aliquota di un 10-15% di persone una volta si definivano irriducibili che condurremo a ragione con un'azione di persuasione bonaria o repressiva laddove sia indispensabile andiamo ora a San Martino Valle Caudina dove il sindaco Pisano traccia il bilancio a quasi un mese dall'alluvione ci sono ancora famiglie sfollate e attività in difficoltà speriamo di tornare al più presto alla normalità in Matedesco famiglie ancora sfollate attività commerciali in forte difficoltà e una piazza da ricostruire è il bilancio che arriva da San Martino Valle Caudina quasi un mese dall'alluvione del 21 dicembre scorso a fare il punto della situazione il sindaco Pasquale Pisano che invita tutti a mantenere l'attenzione sempre alta e annuncia a breve un nuovo tavolo tecnico siamo ancora in una fase emergenziale abbiamo circa 40 persone ancora che non hanno fatto rientro nelle proprie abitazioni e ancora interventi di messa in sicurezza del fiume prima che arrivano le prime piogge è un momento particolare che stiamo vivendo qui a San Martino ed è opportuno fare sì che l'attenzione su questa nostra comunità non cali nelle prossime settimane nei prossimi mesi mi adopererò da subito per poter convocare un tavolo tecnico con tutti gli enti preposti a dare risposte di natura tecnica su quello che occorre qui a San Martino Valle Caudine per mettere in sicurezza il nostro abitato in particolar modo il centro storico ma soprattutto capire il futuro del nostro centro storico del cuore del centro storico della piazza 20 settembre e della piazza Gironomo del Balzo un percorso che sarà condiviso con i cittadini del centro caudino e su questa cosa credo che coinvolgeremo tutta la comunità san martinese perché le scelte che andremo a fare saranno scelte importanti e lo possiamo fare solo insieme ai nostri concittadini l'ospicio dunque è di poter tornare al più presto alla normalità dobbiamo ritornare al più presto alla normalità ne hanno bisogno le 40 persone che oggi stanno fuori casa ma soprattutto le nostre attività commerciali nel Sanio sono in corso le indagini per l'accoltellamento di un 29enne ricoverato al Fatebene Fratelli di Benevento secondo una prima ipotesi a sferrare il fendente al torace sarebbe stata la convivente al culmine di una furibonda lite per fortuna non gravi le conseguenze riportate dal giovane di Cusano Mutri episodio al centro delle indagini dei carabinieri di cui si sarebbe resa protagonista la moglie dell'uomo una cittadina di origini sudamericane ad Avellino slitta ancora la consegna dei nuovi alloggi popolari di via tedesco e scontro tra comune e impresa ma intanto monta la rabbia degli assegnatari vediamo alloggi popolari ad Avellino all'anno zero slitta ancora la consegna delle case di via tedesco l'assessore al ramo Marianna Mazza attacca l'impresa e i responsabili del procedimento devono dirmi qual è il problema rincarano la dose i sindacati festa è stato avventato nell'annunciare la consegna per Natale e intanto tra gli assegnatari monta la rabbia il signor Mario ci mostra le condizioni in cui è ancora costretto a vivere con moglie e figlia in una casa dei vecchi prefabbricati senza termosifoni un altro giovane inquilino Francesco è stanco di sentire solo promesse siamo stanchi che ogni volta dicono prima di Natale poi dicono a febbraio poi dicono a marzo e adesso un'altra bufala dicono solo bugie ma stiamo dicendo solo barzellette noi siamo stanchi di aspettare di aspettare perché qua siamo nel degrado nel freddo nell'umidità non si può stare più qua un'altra bronchita qua ci facciamo la cartella perché ogni anno qua viene un'umidità una casa bronchita 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 non possiamo stare più così non possiamo proprio stare più così ma per i bambini cioè rendetevi conto se possono stare i bambini dei minori che abitano in queste case cioè siamo peggio di quelle zone isolate tipo la Romania voglio dirci i paesi proprio lo terzo mondo e qua stiamo a Tavellino è una città signorile a Tavellino è uno scempio vedere questa cosa cioè io chiedo all'amministrazione proprio col cuore in mano di darsi una mossa visto che fino adesso hanno fatto questo ben di Dio che non si perdesse in un bicchiere d'acqua all'ultimo attuto perché da quando si può vedere è inutile che dicano allaccio e non allaccio con 10 o 20 giorni di lavoro a quelle case hanno fatto di nuovo da capo è inutile che se ne vengono questi ritardi Frane e smottamenti Salerno sempre più fragile il comune corre ai ripari a ruola nuovi volontari per rafforzare il nucleo della protezione civile il servizio l'ultima ondata di maltempo ha lasciato il segno con mezza città lagata frane e smottamenti soprattutto nei rioni collinari Salerno non è una novità si scopre fragile di fronte alle criticità imposte dai cambiamenti climatici anche per questo il comune corre ai ripari ed ha presentato il bando per reclutare i nuovi volontari di protezione civile è necessario che le persone che decidono di darci una mano ovviamente siano sempre più numerose anche perché fisiologicamente c'è un ricambio derivante da una serie di motivazioni ed è questo il motivo per il quale si è deciso col comandante con l'amministrazione di tentare di implementare il numero dei volontari affinché ci possano essere sempre più persone che ci danno una mano in una situazione di necessità anche gli ultimi periodi hanno visto questi ragazzi straordinariamente presenti dai fiumi alle frane agli smottamenti così come l'hanno fatto la loro parte per dare una mano a quelli più sfortunati che temevano l'ondata di gelo insomma ci sono stati dovunque e intorno a loro dobbiamo costruire questo percorso nuovo utilizzando questo rinnovato rinnovato attenzione e anche questo rinnovato entusiasmo ovviamente oggi siamo qui per pubblicizzare questo bando finalizzato proprio ad implementare il servizio dei volontari del gruppo comunale di protezione civile che ad oggi risulta sostanzialmente asfittico e invece il loro contributo anche negli ultimi eventi atmosferici di dicembre è stato assolutamente prezioso da parte mia è tutto grazie regia Adaldo Fenizia ora il meteo poi il TG Sport arrivederci a l'escrizio a l'escrizio a l'escrizio Grazie a tutti.